RoboMate è un'applicazione per gestire la terapia dell'autismo attraverso un robot antropomorfo e un tablet ed è rivolta principalmente ai terapisti. In questo caso vediamo qui una schermata dell'applicazione dove di fatto un terapista è loggato e abbiamo la possibilità di accedere a tutti i bambini controllati e gestiti dal terapista. Selezionando uno è possibile avere un quadro iniziale delle informazioni del bambino con delle note dove è possibile sapere circa la patologia e le difficoltà del bambino che può servire di fatto a definire una terapia specifica. Poi è possibile impostare la terapia attraverso una serie di esercizi che il robot esegue in funzione dell'obiettivo formativo è possibile inoltre inserire una sequenza di questi esercizi in base a una logica che il terapista definisce gli stessi e quindi possiamo accedere eventualmente finita la terapia e eseguiti gli esercizi il grafico dei processi, il grafico degli esercizi, dei progressi che sono stati raggiunti col tempo in funzione degli obiettivi formativi. Una volta definita la terapia è possibile eseguire questa terapia con il robot specifico, queste sono alcune sessioni già impostate, selezionare il bambino, selezionare l'esercizio, lanciarlo e questo verrà eseguito sul robot che non solo eseguirà l'esercizio indicato ma acquisirà anche i dati e le informazioni relative ai risultati.